Come vi chiamate? Anticiclone nordafricano. Anticiclone delle Azzorre. E da dove venite? Beh, io vengo dal Nordafrica e vengo alimentato da masse d'aria bollenti che arrivano direttamente dal deserto di Libia, Tunisia, Algeria e Marocco. Arrivo dalle omonime isole delle Azzorre, quindi siamo in pieno Atlantico e ovviamente appunto prendo origine sulle acque superficiali dell'oceano e sono molto più fresco del mio collega qui anticiclone africano. Qual è il vostro ruolo? Io ragazzi vi porto l'estate, ma l'estate è quella vera, l'estate che fa schizzare le temperature fino a 40 gradi, altro che ogni tanto magari mi distrago un po' e qualche temporalino scappa anche via, ma con me potete stare al sicuro. Il mio ruolo è portare l'estate piacevole da Nord a Sud, quindi su tutta l'Italia temperature ben più gradevoli, non tocchiamo picchi di gran caldo, quindi 38-40 gradi, ma insomma non si superano i 30-32 gradi da Nord a Sud. Tra l'altro vi porta anche qualche temporale soprattutto su Alpi e sull'Appennino tra il tardo pomeriggio e la serata che ovviamente rinfresca un po' l'atmosfera, anzi in serata delle volte la giacchetta non guasta. Sapete dirci come vi chiamano? Questa storia dei nomignoli non mi è mai andata giù. Alla fine io sono l'anticiclone nordafricano, punto e basta, una volta Lucifero, una volta Caront, una volta Mazing e Goldreck. No, poi la gente si confonde secondo me, pensa che siano soggetti diversi, invece sempre io sono. L'anticiclone nordafricano, punto e basta. Beh oddio non c'è un particolare nome perché appunto non sono odiato dalle persone, non servono grandi nomi per ingigantire le ondate di gran caldo, semplicemente anticiclone azzurriano appunto va bene. Non servono grandi nomi per caratterizzare appunto qui il mio collega vicino. Adesso diteci, i vostri pregi e difetti? Beh ragazzi, l'estate che porto io, solo io sono in grado di portarla. Con me si suda, ma si suda come si deve, quindi tocchiamo i 40 gradi anche oltre, eppure la notte non mi distrago mica, temperature elevate anche la sera e nelle ore notturne. Io sono l'anticiclone, quello è vero. Certo il difettuccio per chi magari non sopporta il caldo, in effetti ammetto che alle volte esagero un po', però ragazzi questa è l'estate. Allora pregio assolutamente passare un'estate normale, assolutamente vivibile su tutte le nostre regioni, in particolar modo ovviamente per chi abita su grandi centri urbani, perché appunto si sta bene, massime non oltre i 28-32 gradi, si può girare tranquillamente sia durante il pomeriggio, ma poi anche serata un po' di vento non manca mai. Attenzione invece qualche difetto ce l'ho d'inverno, perché qui blocco le piovose perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo centro-occidentale, tra l'altro appunto porto fasi molto stabili, con nebbie e ahimè anche uno stagno degli inquinanti su tutte le pianure, tra l'altro porto anche temperature piuttosto miti nel periodo invernale, insomma quindi per tutti i freddofoli non è che sia al massimo. Cosa ne pensate dell'altro? L'altro, perché esiste un altro, questo sarebbe un anticiclone, ma fammi il piacere va, io sono il vero anticiclone dell'estate, lui è moscio, temperature fino a 30 gradi, poi ogni tanto si ritira pure verso l'Atlantico, quando arrivo io invece pam, mi piazzo lì e non mi muove più nessuno, quest'altro non è proprio in grado di fare il suo lavoro, ve lo dico io. Allora non ci sono parole per descriverlo perché non si può vivere di giorno con lui, non parliamo poi di notte quando dovrete andare a riposare, temperature bollenti come detto soprattutto sui grandi centri urbani, ma noi ce ne accorgiamo della sua presenza con le bollette dell'elettricità perché dobbiamo accendere il climatizzatore da mattina fino a notte, tra l'altro ovviamente per chi lavora anche all'aria aperta non si può resistere con temperature veramente tropicali sulle nostre città, insomma io di pregi proprio non ne vedo. In ogni caso non vi sembra che ultimamente siate troppo invadenti entrambi? Su questo vi do anche ragione perché effettivamente negli ultimi anni sia io che il mio collega riusciamo spesso a infilarci verso il Mediterraneo e l'Italia impedendo alle perturbazioni di raggiungere il nostro paese, ma guardate che volendo sotto sotto questa è una conseguenza del cosiddetto cambiamento climatico, quindi non è colpa nostra, anzi forse è più colpa vostra. Questo è vero, rispetto a qualche decennio fa ormai abbiamo maggiormente interessato l'area del Mediterraneo e ovviamente meno piogge stanno interessando l'Italia, quindi piovose perturbazioni che scorrono latitudini più settentrionali tra Inghilterra e Scandinavia. L'Italia vede il minor passaggio di piovose perturbazioni, quindi dei periodi più prolungati di siccità e ovviamente con conseguenze anche temperature più elevate, ma la colpa non siamo noi, ma piuttosto voi con l'inquinamento. Salutate! Un saluto e buona estate a tutti! Un saluto a tutti quanti, ovviamente un'estate gradevole, piacevole, sempre calda, mite, ma insomma con me assolutamente si può assaporare delle giornate gradevoli da mattina fino a notte.